Sì, buonasera, sono Bigiogero, posso aver nomato l'etica qui al caserma di via Saffi, alla rama dei carabinieri. Sì, cosa succede? Praticamente stanno massacrando un ragazzo, ma in caserma? Sì, adesso lo mando, salve, 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 118, mi hanno richiesto un'ambulanza, mi ha chiamato un signore diceva di mandare un'ambulanza lì da voi, me lo conferma? Ma chi è chiamato tu? Un signore, mi ha detto che lì stanno massacrando un ragazzo e che voleva un'ambulanza. Guarda là fuori il titolo. Sì, no, guarda, sono due ubriacchi, abbiamo quinta ferma, adesso io ho due un'ambulanza, se abbiamo bisogno lo sentiamo noi. Sì, sì, non ti preoccupare, ci mancherebbe, ho chiesto, ciao ciao.